sapevi che il 65,1 per cento della popolazione in italia consuma da una a quattro porzioni di frutta e verdura ciao a tutti e bentornati a un altro video di uno stile di vita sano non c'è bisogno di sottolineare quanto siano importanti per noi le verdure ma spesso tendiamo ad evitarle perché sono insipide mancano di sapore o hanno un sapore amaro se continui a lasciarle fuori dal piatto ci saranno alcuni segnali che il tuo corpo invierà per indicare una carenza di vitamine se vedi questi segnali sai che è il momento di aumentare l'assunzione di verdure e nel video di oggi vi diremo quali sono dall'avere sempre fame alla pelle che si rovina dalla visione compromessa alle colori e altro ancora guarda fino alla fine per conoscerli tutti 1 hai la pelle opaca le verdure hanno un alto contenuto d'acqua quindi aiutano a mantenere la pelle idratata ea livellare le linee sottili e le rughe anche la mancanza di antiossidanti può far apparire la pelle opaca gli antiossidanti sono composti che riducono l'effetto del danno cellulare nel corpo combattendo i radicali liberi che si producono come risultato di reazioni chimiche corporee il beta carotene è un importante micronutriente che si trova nelle carote e nelle patate dolci e che agisce come uno schermo solare naturale per proteggere la pelle il collagene è un'altra proteina essenziale che mantiene l'elasticità della pelle gli alimenti ricchi di vitamina c come i broccoli gli spinaci il cavolo e il limone possono aiutare ad aumentare la produzione di collagene 2 il tuo umore è perennemente a terra la mancanza di elementi nutritivi può farti sentire di malumore e letargico o letargica la maggior parte degli alimenti trasformati ti dà subito un picco di energia seguito poi da un crollo incluso il pane bianco la pasta e gli alimenti che inducono zuccheri la frutta e le verdure fresche sono ricche di multivitamine bio disponibili e minerali naturali che possono fare miracoli per il nostro corpo bere succhi verdi freschi come prima cosa al mattino può sollevare il nostro umore e mantenerci pieni di energia per tutto il giorno 3 costipazione le verdure sono ottime fonti di fibre alimentari che sono a basso contenuto calorico e ad alto contenuto di nutrienti come potassio calcio e magnesio gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri possono essere poveri di fibre queste sono la chiave per produrre più massa nelle feci e per rendere facile il passaggio attraverso l'intestino scegliere verdure come broccoli piselli fagioli e verdure a foglia può aiutare a superare questo problema 4 sempre affamati i cibi elaborati sono ricchi di calorie che non possono mantenere sazi a lungo il tuo corpo li assorbe rapidamente per poi volerne ancora le verdure e invece grazie al loro alto contenuto di fibre vengono digerite lentamente e questo aiuta a tenere a bada la fame il rimedio per non sentirsi affamati dopo un pasto è quello di avere i nutrienti che continuano ad essere assimilati silenziosamente mentre si sta ancora lavorando noci semi legumi o un sano piatto di insalata o della frutta costituiscono un ottimo modo per fare uno spuntino dopo i pasti quando ti viene fame 5 spesso a terra con il raffreddore e l'influenza la vitamina c è uno dei principali elementi a rafforzare il nostro sistema immunitario un sistema immunitario indebolito può facilmente provocare frequenti sintomi di raffreddore e influenza il nostro sistema immunitario è composto da molti globuli bianchi che tengono a bada antigeni estranei come batteri e virus e la vitamina c gli aiuta a farlo sostenendo e facilitando la loro crescita e salvaguardia peperoni verdi broccoli spinaci kiwi arance e limoni sono buone fonti di vitamina c da tenere sempre a portata di mano 6 ti tagli facilmente ti ammacchi o hai una lenta guarigione questo potrebbe essere anche a causa di bassi livelli di vitamina c nel corpo la vitamina c aiuta la produzione di collagene una proteina importante e necessaria per l'elasticità e il mantenimento della pelle 7 spesso stanchi questo può essere dovuto alla carenza di ferro folato e vitamina b12 nella dieta che può provocare ulteriormente l'anemia ortaggi verdi a foglia scura fagioli cavoli foglie di amaranto asparagi menta e lenticchie possono essere buone fonti di vitamina b e ferro per ravvivare la tua alimentazione 8 crampi muscolari i crampi muscolari possono essere il risultato di bassi livelli di potassio magnesio e calcio il potassio è necessario per la contrazione dei muscoli lisci le migliori fonti di verdura sono ortaggi a foglia scura dietro le cavoli spinaci e patate dolci 9 memoria annebbiata mentre la dimenticanza occasionale o l'appannamento della mente è normale a tutte le età con l'avanzare degli anni la mancanza di nutrienti può anche portare a episodi prolungati di appannamento della mente la luteina un tipo di antiossidante può essere utile per ravvivare la memoria e l'apprendimento può essere facilmente trovata nei pomodori nelle carote nei broccoli e nelle verdure a foglia includerli nella tua dieta quotidiana può migliorare la memoria e aumentare la potenza del cervello 10 visione compromessa le verdure a foglia verde scuro e quelle colorate come le carote e le barbabietole contengono carotenoidi che possono migliorare le prestazioni visive degli occhi e prevenirne le malattie legate all'età si è visto che carotenoidi come la luteina e la zeaxantina hanno un'azione protettiva contro la cataratta e prevengono la degenerazione maculare e altre malattie degli occhi legate all'invecchiamento